buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 7 dicembre 2023 siamo alla vigilia di un lungo ponte fino alla fine di questa settimana domani è la festa dell'immacolata e quindi sarà un giorno di riposo vediamo subito il manaco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi è uno dei grandi santi i santi sono tutti grandi ma c'è qualcuno che magari ha un ascendente in più rispetto agli altri e sant'ambrogio ecco lo vediamo qui nella grafica sant'ambrogio che visse nel quarto secolo nacque a treviri la città che conserva oggi ancora la porta nigra fu nominato governatore di milano e dato che la sede episcopale era vacante fu nominato anche vescovo e d'amblè ambrogio ricevete tutti gli ordini a scalare appunto fino alla alla nomina episcopale ambrogio non prese il suo nuovo impegno sotto gamba e vi si dedicò anima e corpo confutò in modo mirabile l'eresia degli ariani e fu un grande predicatore e tra l'altro fu colui che battezzò sant'agostino e quindi una reverenza per quanto riguarda sant'ambrogio ed ora passiamo alle previsioni del tempo oggi abbiamo condizioni di variabilità su tutte le marche con possibilità di brevi e occasionali piovaschi in prossimità delle zone costiere a mattino fa freddo la temperatura minima è di 6 gradi la massima di 10 gradi sulle coste espira un vento con una tensione media da ovest nord ovest mentre nell'interno una tensione più debole da ovest ebbene il sole sta per sorgere alle 7 e 35 e tramonterà alle 16 e 27 questo per quanto riguarda l'inizio di giornata ora apriamo il giornale questa mattina cominciamo con il corriere adriatico e vediamo la pagina di fano ma l'apertura come è accaduto anche ieri poi è la stessa del resto del carlino cosa riporta il giornale riporta un po il sunto del confronto che ieri c'è stato al tag hotel diretta su fano tv tra i due candidati sindaco samuele mascarin per quanto riguarda una coalizione lui si inserisce in una coalizione di centro-sinistra e giuseppe de leo invece che opera all'interno del centro-destra entrambi però sono orfani di un avvallo delle loro rispettive coalizioni e quindi la stanno cercando si sono proposti coraggiosamente sono stati i primi a salire alla ribalta ed ora cercano di così coalizzare su di loro appunto gli altri partiti e samuele mascarina insistito molto sulla convenienza delle primarie queste elezioni che dovrebbero dare la parola ai cittadini per nominare il candidato sindaco che poi ovviamente far convergere su di lui i voti della maggioranza dei fanesi invece giuseppe de leo cerca di ottenere l'avvallo del centro-destra che per il momento è stato un po sulla ventino e questo riguardo lo sono mancate anche delle frecciatine che de leo ha così tirato nei confronti della sua coalizione dicendo che non è possibile aspettare gli input che vengono fuori fano che magari perseguono interessi partitici che non si addicono a quelli che sono i veri reali interessi della città di fano e quindi spinge affinché il centro-destra rompa ogni indugio e alla fine si coalizzi si coalizzi su un nome magari il suo ovviamente per il candidato sindaco mascarine primarie sono fiducioso in titola oggi il corriere adriatico de leo no a scelte fatte fuori fano nel primo dibattito tra i candidati a sindaco prevalgono i problemi interni di centro-sinistra e di centro-destra ma ovviamente non sono mancati i problemi reali del nostro territorio si è parlato molto molto a lungo di piano regolatore di viabilità di ambiente di sicurezza si è parlato di tutti i problemi che in questo momento incombono sulla città di fano carenza di parcheggi eventi manifestazioni e valorizzazioni dell'apparato commerciale vivibilità interna insomma ci sono diversi problemi ai quali ogni candidato sindaco ciascuno ha dato il suo parere la sua soluzione e insomma è stato un primo dibattito interessante che almeno sta cercando di così ravvivare un po una situazione un po dormiente dobbiamo dire ed ora cambiamo argomento vediamo la cronaca maltratta la compagna davanti ai figli è stato arrestato si tratta di un uomo che aveva così maltrattato un uomo di colli al metauro che aveva maltrattato la sua famiglia gli episodi ricostruiti dai militari sarebbero avvenuti anche la presenza dei due figli minori la vittima la moglie per sottrarsi al compagno che la stava malmenando era già stata costretta a trasferirsi con i figli in un'altra abitazione fuori provincia ebbene una situazione come diverse purtroppo si verificano nel nostro territorio comunque in questo caso il provvedimento di esecuzione degli arresti domiciliari nei confronti appunto del persecutore è stato firmato dal giudice dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di pesaro su richiesta della procura della repubblica l'uomo un 48enne ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna convivente insomma nonostante tutti gli tentativi di sensibilizzazione per contrastare la violenza sulle donne ancora purtroppo questi episodi si stanno verificando e lo vediamo quasi tutti i giorni sulle croniche dei giornali un ricordo per una persona cara i valori e i progetti di tommaso tommaso e tommaso della dora scomparso nel maggio scorso improvvisamente a causa di una un evento fulminante così possiamo dire ebbene è stata organizzata una serata la cooperativa tre ponti nel suo ricordo anche per raccogliere fondi per dare il vio ad una associazione che si è costituita in suo nome un'associazione che intende perseguirne il ricordo ma anche per attuare i suoi disegni e tommaso della dora era un operatore sociale molto molto impegnato una persona allegra solare vivace e estroversa in tanti tanti campi amava la fotografia aveva fatto un reportage molto significativo ed interessante sui centri colpiti dal terremoto e appunto all'associazione che si intende costituire organizzerà una mostra dei suoi lavori per documentare il suo impegno sociale ma anche poi politico tra virgolette in quanto poi era stato nominato segretario del partito democratico e sono stati in tanti in questa serata ricordarlo a partire dall'attuale segretario del partito democratico Renato Claudio Minardi mentre la serata è stata condotta dall'assessora Sara Cucchiarini. Il papà di Tommaso della Dora ha ricordato i quei momenti fatali in cui il figlio purtroppo è deceduto così improvvisamente lasciando tutti sgomenti. Giriamo la pagina, passiamo ad altri argomenti parliamo di Fossombrone e delle iniziative natalizie. L'albero di Natale si accende a Fossombrone con il suo corso tutto luminoso, tutto vivace è una cosa veramente interessante da visitare al ritmo della Funkfo Band. Domani alle 16 via ad un pomeriggio di musica 40 giorni addirittura di spettacolo quindi fino a oltre le festività natalizie e dopo l'accensione del grande albero in programma domani alle 16 a Fossombrone ci sarà questo grande evento spettacolare con l'esibizione della Funkfo Band che animerà tutto corso Garibaldi. Insomma un primo evento che poi altri ne seguiranno fino appunto oltre Natale. Parliamo anche di un problema che riguarda il cimitero di Bellocchi. Spesso il cimitero di Bellocchi per il suo stato di degrado è salito alla ribalta della cronaca. Abbiamo lì problemi di infiltrazioni dell'acqua, dell'umidità. Spesso i reparti che sono sottoterra sono seminterrati, sono inagibili perché magari ci penetra l'acqua e poi c'è carenza di loculi. Ebbene impermealizzazione e stoccaggio di rifiuti finalmente si opera. E c'è un progetto da 200 mila euro che è stato redatto dall'amministrazione comunale per i cimiteri di Bellocchi ma anche quello dell'olivo. L'impermeabilizzazione è la prima esigenza. Si tratta della copertura di una sezione del cimitero di Bellocchi con tutta poi la tinteggiatura delle parti interne perché si sono poi ammalorate a causa dell'umidità in modo da ridare dignità e di coro appunto al cimitero stesso. Ebbene le tombe sono non solo il simbolo della memoria ma è un luogo anche da onorare perché poi l'affetto lo si vede anche dalla cura con cui uno mantiene la tomba dei propri cari. Una notizia di cronaca invece ci viene da Monteporzio. Ancora alcuni napoletani tentano le truffe con il disegno del figlio coinvolto in un incidente e l'avvocato ha bisogno di soldi. Vittima una novantenne. Però questa volta non c'è cascata. Questa signora nonostante l'età avanzata ha capito che nella proposta di un pseudo maresciallo dei carabinieri c'era qualcosa che non andava. Ha ricevuto una telefonata dicendo che il figlio era stato coinvolto in un incidente occorrevano soldi per pagare l'avvocato e dagli a poco sarebbe arrivata una persona a ritirarli. La persona è arrivata ma la donna non l'ha fatto entrare in casa. Si era accorta benissimo che era una truffa. Ha avvisato i carabinieri e l'uomo ha cercato di deleguarsi perché ha capito che la donna non la boccava però dopo grazie anche all'aiuto delle telecamere lui e il complice sono stati individuati. Si tratta di due uomini di origini campane ritenute ora responsabili di tentata truffa ai danni dell'anziana. Madonna delle Grotte a Mondolfo crollano tre piante nel parco incidenti e il parco ora verrà reso di nuovo agibile con la rimozione appunto di queste piante. E intanto a San Costanzo c'è un avviso ai privati per la manutenzione del verde. Il comune di San Costanzo ha emesso nel frattempo un avviso pubblico mediante il quale si comunica alla cittadinanza che tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade del territorio comunale devono rimuovere piante pericolanti, rami che stanno per cadere sulla strada per evitare qualsiasi incidente. Quindi c'è un'ordinanza in questo senso. Veniamo a Senigallia. A Senigallia ne capitano veramente di tutti i colori ma ne capitano un po' di tutti i colori anche di tutte altre parti. Ebbene in questo caso veramente un uomo che così era assistito in una casa della Caritas di notte ha pensato di infilarsi nel letto di una signora che stava dormendo tranquillamente colicata su un fianco e di strusciarsi nel suo corpo insomma. La donna lì per lì insomma stava dormendo non è che ha badato molto poi alla fine si è accorta di quello che stava accadendo e ha cominciato a urlare e quindi l'uomo è fuggito ma poi è stato trovato ovviamente. L'uomo poi è comparso in tribunale l'accusa è quella di ma si tratta di un qualcosa che riguarda la sfera sessuale ma però il giudice l'ha considerata leggera, lieve e quindi non gli ha combinato una grossa pena. Un anno e mezzo a un croato le molestie su una donna che stava dormendo addirittura con il figlio Leto un anno e mezzo ma insomma poi lui non ha nemmeno scontato perché poi è stato rimesso in libertà. Camerieri in nero in un ristorante a Senigallia ora c'è il rischio dello stop della chiusura temporanea il controllo è venuto sul lungomare da parte della Guardia di Finanza di Senigallia la task force rafforza l'impegno sui controlli per quanto riguarda il rispetto delle norme da parte degli esercizi pubblici. Vediamo anche la pagina di Pesaro l'apertura è dedicata dalla nuova programmazione scolastica il dimensionamento delle scuole si eliminano quattro autonomie lo vuole l'algoritmo così avrebbe evidenziato il sistema appunto di riorganizzazione dell'apparato scolastico. Rete scolastica side la provincia al piano di programmazione 2024-2025 e la Presidente Paolini operazione decisa dopo il confronto con i sindaci e gli istituti. Diamo un'occhiata a quello che si sta decidendo perché ci sono diverse novità per quanto riguarda accorpamenti tra diversi istituti. Il Consiglio Provinciale ha approvato il piano di programmazione scolastica relativa al prossimo anno a favore la maggioranza tranne la consigliera Fernanda Sacchi che si è dichiarata contraria la minoranza ovviamente ha votato completamente contro quindi nella maggioranza c'è stato un voto contrario. La provincia ritiene prioritario tutelare i comuni soprattutto montani per questo si prevede il mantenimento degli istituti comprensivi di Mercatino Conca Macerata, Feltrea e Apecchio con l'istituzione dell'istituto omnicomprensivo Alte Marche Michelini Tocci Celli nel comune di Cagli una decisione questa che è stata concertata con i comuni dell'Unione Montana del Catria e del Nerone viene così salvaguardato il Celli questo istituto superiore con una popolazione scolastica di 341 studenti non sono molti però insomma è importante mantenere questo presidio a livello territoriale la sua unione con il Tocci che ha 672 allunni consente la formazione di un istituto omnicomprensivo di oltre mille di circa diciamo mille studenti valutata opportuna anche l'aggregazione del CIPIA Centro Provinciale per Istruzione degli Adulti con il Cecchi di Pesaro e poi inserita anche la proposta del comune di Urbino sulla fusione tra gli istituti comprensivi Pascoli e Volponi costituita da 17 plessi delle due scuole non ammissibile invece il mantenimento dei due circoli didattici di Sant'Orso e di San Lazzaro per quanto riguarda Fano che rappresentano un caso unico nelle Marche e in contrasto con la normativa regionale fino adesso sono sopravvissuti come circoli didattici autonomi d'orinavanti dovrebbero essere inseriti in un istituto comprensivo e vedremo come poi verranno prese queste decisioni giriamo la pagina restiamo sempre su Pesaro e vediamo come il sindaco Ricci ha presentato a Roma il programma di tutte le attività che si svolgeranno a Pesaro nel momento in cui diventerà dal primo gennaio capitale nazionale della cultura Pesaro 24.329 eventi 50 comuni in campo capitale della cultura finalmente svelato a Roma il programma il 20 gennaio ci sarà Mattarella e poi la festa non stop da mattina a notte insomma veramente si fanno le cose in grande a Pesaro e per condensare le notizie che risaltano da questo articolo ci basiamo sulla tabella che viene pubblicata eccola qua il tema la natura della cultura sono 5 le sezioni la natura mobile ubiqua imprevedibile operosa vivente della natura ci saranno 329 eventi 150 artisti si parlerà di musica di arte di tecnologia e sostenibilità nel segno della pace e beh questo è un segno un po' che dovrebbe governare un po' tutte le iniziative a partire da quest'anno e poi il prossimo anno la biosfera è il simbolo di Pesaro 50 per 50 capitali al quadrato ogni comune della provincia avrà una settimana e quindi potrà far vedere anche le sue prospettive la sua promozione le sue manifestazioni e poi il 20 gennaio del 2004 la grande cerimonia popolare di inaugurazione con il presidente Mattarella quindi veramente ci sarà di che così utilizzare tutto questo programma per avere una visione più ottimistica del futuro nel prossimo anno vescovo braccia aperte ai volontari con mega raduno alla San Giovanni dopo la proposta di Monsignor Salvucci lunedì ci sarà un incontro organizzato dalla Caritas ebbene stanno organizzando un mega raduno i volontari che promuovono la solidarietà con chi vive in situazioni di disagio un impegno questo che si fa più forte più sentito durante le manifestazioni natalizie tutti insieme per confrontare le esperienze e scambiarsi gli auguri di Natale il desiderio di riunire i tanti vessilli delle associazioni cittadine che ci sono impegnate nel sociale al fianco delle persone bisognose è stato espresso dall'arcivescovo che ha manifestato alla Caritas di Pesaro insomma un impegno a cui Monsignor Salvucci ha dato il suo imprimatur e occorre quindi dargli più forza e dargli più sostenibilità questo per quanto riguarda Pesaro ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino a partire sempre dal confronto De Leo Mascaline che si è svolto ieri al Tag Gotel vogliamo dire anche con una ripresa una lunga ripresa diretta di Fano TV i due autocandidati per il centrodestra e per il centrosinistra si sono confrontati però insomma senza squigli al momento vengono considerati due gentlemen i due candidati sindaco insomma si sono confrontati sì qualche stoccatina c'è stata ma nessuna ferita lacerante vedremo poi se le cose ancora si vivacizzaranno di più i prossimi giorni anche il resto del Carlino parla dell'episodio di cronaca dell'uomo di 48 anni che ha maltrattato la moglie di fronte ai figli il ricordo di Tommy della Dora sala gremita per un uomo speciale e poi invece qui vediamo un articolo che ci dà una novità la prof l'ha spronta a regalare un palasport non si capisce bene se regala il progetto o regala addirittura l'opera comunque si tratta di un intervento importante Giancarlo Paci ha sul tavolo il progetto ideato dopo un incontro con il sindaco Massimo Seri individuata l'area è quella di Chiaruccia quella che è stata sempre preventivata per la realizzazione di questa nuova mega struttura un nuovo palazzo dello sport che dovrebbe dare la possibilità alle squadre cittadine di utilizzare un impianto all'altezza della situazione ormai il Salvatore Allende non è sufficiente per ospitare grandi grandi eventi e non solo dal punto di vista sportivo questa struttura potrebbe essere utile ma anche quella per organizzare delle grandi manifestazioni eventi che una volta si parlava addirittura di una struttura da 5.000 posti ne basterebbero anche 3.000 però insomma questa è una struttura di cui ormai si vagheggia da tempo e con una intervista rilasciata a Maurizio Gennari sembra che Giancarlo Paci si sia sbilanciato in questo senso le diocesi unite per ricordare le sei giovani vittime di Corinaldo erano la notte tra il 7 e l'8 di dicembre del 2018 quando è avvenuto quel terribile incidente quel terribile fuggifuggi che ha causato sei vittime in quel di Corinaldo alla lanterna azzurra la diocesi di Fano Fossombrone Caglie Pergola e la diocesi di Senigallia unite nello stare accanto alle famiglie delle vittime della strage la memoria va coltivata custodita protetta ed è autentica quando diventa impegno concreto per l'oggi l'impegno concreto è far sì che queste cose non accadano mai più così come si sta impegnando il comitato dei genitori il cogeo che appunto lotta perché ci siano sistemi di sicurezza adeguati alla situazione cittadini meritevoli ecco il premio cuore comune selezionati cinque candidati su 23 proposte che sono arrivate ebbene il 12 dicembre alle ore 21 al teatro della fortuna ci sarà la consegna del premio cuore comune è un premio significativo che premia coloro che nel silenzio più assoluto senza alcuna ribalta hanno così programmato la loro vita per aiutare gli altri si impegnano nel settore del volontariato fanno tante cose nel settore della disabilità dell'immigrazione dell'ambiente insomma della vita civica della città lo fanno silenziosamente ma questa volta per fortuna l'amministrazione comunale si accorta di loro e quindi vuole premiarli e dire a loro il grazie della città veramente una bella iniziativa paura in un condominio erap di bellocchi tra poco ci tagliano il gas per pochi morosi sembra una situazione che si ripete ogni tanto ci sono quei mega impianti che sono un po' ad uso di tutti i condomini qualcuno non paga ne soffrono anche gli altri e beh insomma questa è una situazione da riparare e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 intanto grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto